Ecco, qui siamo sulla spiaggia del villaggio dove alloggiamo, è il villaggio Serenusa, adesso ve lo faccio vedere dal mare, è una montagnetta tutta verde e le case sono nascoste dagli alberi dove alloggiamo, sopra dietro si vedono solo i pali delle luci dove c'è il cappetto di calcio in sostanza e queste sono le straio, oggi è una giornata col vento, doveva essere coperta però c'è stato uno spiraglio di sole e quindi tutti ne stanno approfittando, però c'è il mare un po' grosso ed è suggestivo, laggiù in fondo è Licata il paese che vedete lì con il suo posto, il posto è abbastanza carino qua insomma, oggi poi è spettacolare il mare che arriva fino a qua, anzi addirittura potete vedere che lì lambisce anche l'esdraio, quindi se continua così magari se le porta anche in mare, però la parte che interessa a noi, i villeggianti, almeno me e mia moglie, qui non è per niente toccata, quindi c'è un ampio margine ancora di sabbia che protegge le nostre straio, comunque il mare è bello, è bello spettacolare, ci sono certe ondate, oggi è uno di quei giorni che non ho mai visto il mare così agitato da quando siamo qui, siamo qui già da 7-8 giorni e oggi invece è così, c'è un sole velato, guardate, ve lo faccio anche vedere, però si sta bene, non fa per niente freddo, il mare comunque nonostante sia così è caldo, vabbè oggi non sarà possibile fare il bagno perché non te lo permettono, c'è la, probabilmente la bandiera rossa, quindi non sarà possibile accederlo, ecco, qui guardate che sorgoglio dell'ondata che mi è arrivata quasi ai piedi, vedete, è poco alla volta, però sta avanzando anche verso di noi, le onde, vabbè io sono di seconda fila, spero di salvarmi, come si vuol dire, va bene, ho mostrato un po' qui com'è, il villaggio è bello, è ben gestito, pulito, si mangia benissimo, insomma, quest'anno dal punto di vista della loggia, della pulizia, del mangiare, posso dirmi soddisfatto, quindi lo consiglio a chi vuole venire, a Licata, vicino a Licata, villaggio Serenuse, 4 stelle, non costa moltissimo, quindi è accessibile ad ogni tasca, va bene, penso di aver finito di mostrare, ecco, mi mostro anch'io, almeno, ecco qua, va bene così, rigiro, ok, ho rigirato, bene, grazie